Prendi i dolci Sì qualcuno ce l'ha già assolutamente I dolci cosa facevano? Eh no, ah li fanno bloccare la cassa oppure uccidere gli zombie Ah sì Ok vai fra vai fra Ok allontanati Jumbo, stai lontano da là fidati Spostati Sto per fare il colpo del secolo signori Ti ripeto di spostarti da lì È per il tuo bene È per il tuo bene Jumbo No lo so lo so Bancan Bona L'ha mancato No devo ritentarci Vieni lo fa apposta Tutto questo per prendersi più punti Però tanto adesso deve comprarsi l'altro L'ho preso voglio ritentare Vabbè io me ne vado via perché siete troppo incasinati qua Ok Jumbo occhio perché fra sta per fare il second Second phase Ma io dovevo Io dovevo farmi il teschio con i fucini In questa partita E tutto questo è perché Jumbo se n'è andato Eh cosa devo fare? Devo stare qui che girate come Eh ma io avevo preso anche già Addio teschio con i fucini Io dovevo fare il teschio con i fucini in questa partita Il teschio con i cazzo fucini Ma allora adesso me lo spiego Posso dire una cosa? Vai Ma ogni volta che prendete l'arma o morite o fate qualcosa? No ma su serio Devo ricordarvi il cheese club? No no ma Non è ancora detto l'oltre Basta che io faccia 400 uccisioni Non vada mai a terra E ho già ratio di 200 È una bella cosa Cosa fa questo? Mi segue questo cretino di zombie Ma io non voglio dargli dolci così a random Voglio bloccare la cassa Eh ma bisogna aspettare che la cassa sia in una posizione favorevole Tipo l'alizio Oppure magari con i saldi puoi farlo Non lo so Non l'ho mai provato con i saldi Eh Ho mancato la cassa a te Non posso mancare Eh Apro una porta a caso Eh Magari chiedici parere a noi Così ti diciamo se stai facendo una cosa sensata Apro due porte a caso Non esagerare Jumbo Ma Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è È un devasto su Come abbiamo fatto su Ascension È sopravvivere Allora volete che Dai vabbè ho capito Devo rimanere io per ultimo Siccome abbiamo trovato armi molto Porca troia Io non ho mai Io non ho mai Io ho visto di gente Eh sì Jumbo Questo è È tutto nella vita La convinzione È tutto E quindi La convinzione Riesco a buggarmi col paralizzatore Comunque Quando uscirà questo video Ah vai Non ce la faccio Ok No Quando uscirà questo video Ovvero il 23 di Marzo Non è vero? Perché oggi è il Oggi è il 18 Quindi Uscirà il 20 21 dai Il 21 Siamo Sempre più vicini Ai 60k Forse li avremo No non li avremo raggiunti Ma tu hai preparato il video Alla fine Sì Sì e no Sì e no Nel senso che ci stai lavorando Sì Perché Perché Spero che me lo preparava Spero che me lo prepari Farai invece Farai invece Daz Daz Allora 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 Io ho già fatto 1.60k Ancora prima di arrivarci Sai perché? Perché? Tutte le volte Che ho fatto la cassa Mi merito Durante quella costata Esatto Posso direttamente Esatto Esattamente Buttare tutte le volte Che frappe Sulla wonderward Basta Comunque oggi Ahia Comunque in segno di protesta Non userò l'applicazione Bravo Perché? Perché John? Ora intendo fare il world record Non lo so Protesta perché? Protesta perché Sei Sei incazzato del fatto Che l'app Si chiama YouTube Stars E tu non sei presente? Ehi L'app A parte che Si chiama YouTube Stars Per Android Perché io non uso quella Comunque Ah ok Vabbè Comunque ci tendo a precisare L'app Si chiama YouTube Stars Minuto 12.04 Lo sto dicendo YouTube Star Ok Minuto 12.04 In che senso? Eh Che in questo momento Siamo a minuto 12.012 Si Si Ok Se loro vanno indietro Di 8 secondi Ritrovano 12.04 Quanto Non so Va bene Ottimo Mi sto capendo da solo Si Bene E cosa dicevi? Che Io non ci sono Ma non ci sei neanche tu Ok Però io Però Si Tu che hai tirato fuori il discorso Che questa cosa Per protesta Non la usi Perché non ci sei Hai capito? Non puoi usare Tanto la scaricata Cioè hai capito cosa Cosa intendo Caro Jambu È un È un È un È un È un Non dove Eh beh Questa Cosa hai detto? Hai appena usato un'applicazione Aspetta che accendo il telefono Allora Non farci laggare Allora Cosa bisogna fare? Io non mi ricordo più nulla Ma io Andrei alle streghe Però Aspetta 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 Io in banca Io in banca I puntazzi Qualcuno di voi Hai i dolci? Non ce li avevi i dolci? Sì ho sbagliato L'alcol Ah Io ce l'ho l'alcol Ah no aspetta Così li prendo Che cazzo faccio? Fagli esplodere tutto qua Ti sei andiamo pure Dalle streghe Se volete Però No io C'è qualcuno che sta gioinando Dopo dovremmo farlo Quitare anche lui Perché A quanto pare Fra Eh sì ho messo Massimo giocatori tre Ma Ho messo massimo tre giocatori Così non può entrare nessuno Ma se voi cresciate Potete entrare uguale Potete entrare uguale Invece Invece Ricordiamo che questa partita È sponsorizzata da Trivago Da Trivago E alla fine Ci sarà una recensione Giocatori E una recensione mappa La recensione giocatori Sarà fatta dai giocatori stessi Quindi Quindi io li posso recensire te Quindi tu recensisci me Io recensisco te Farà mi stare simpatico Perché oggi non ho trovato Armi strane Esatto Quindi Per la prossima Mappa È ancora ammesso Va bene Sì Per adesso Perché Perché poi Perché poi Perché poi si vedrà Nella prossima mappa Cosa viene a succedere Comunque Lanciamo un altro sondaggio Posso dire anche un altro motivo Per cui Avete avuto Le armi forti Sì sì Vi ricordate che qui c'era il perché Della cassa fornata Sì ma io non ce l'avevo L'orsettino sopra la cassettina Io l'avevo Eh io no Eh tu l'avevi Dovevi prendertelo Tale cassa di armi fortunate Ah ma giusto Perché non ho fatto la cassa Eh ma Come non hai fatto cassa Vabbiamo No no ho fatto cassa due volte Dove Poi me l'ho lasciata a voi Sì Ecco Tempo scaduto Tempo scaduto Molto bene Ottimo È convinto lui È convinto Aspetta perché Ah ecco qua Tu Jumbo si vede che hai fatto L'easter egg Perché se vieni qua C'è la cupola aperta Non dico bugie Bravo Jumbo Non mente ragazzi Ma comunque Che hai trovato Amr Not bad È una buona arma L'amr Comunque Stavi per lanciare un sondaggio Jumbo Eh sì perché in ogni video Lanciamo un sondaggio Non è vero Ma va bene Da oggi lancieremo un sondaggio Da oggi lancieremo un sondaggio Vai Perché bisogna Intrattenere i pubblici I pubblico Nei commenti In modo tale che si scannano Tra di loro Esattamente Ok Fagli scannare tra di loro Sì Una volta comunque Mi ricordo che ho detto Meglio Apple o Android Sì Avevamo fatto la domanda IOS Android Però Eh sì Non scategliamo Device War Qua sotto Device War Stavolta Diremo Meglio Non voglio dirlo Non vuoi dirlo No no Ah fra morita Non muoio Ok Meglio Telecom O Fastload Non mi sembra Una domanda Una domanda Pertinente Cos'è Devi cambiare Operatore Perché Jabu Lo stolto È Fasto E beh Ma comunque Non vuol dire un cazzo La tua domanda Perché dipende anche Dove abita una persona Eh perché vuol dire Che vuol dire Che vuol dire Che se io dove abito io in montagna Fastload Non ce neanche per farti capire Ma a volte da te arriva sicuramente la fibra ottica Sì 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 Comunque qualcuno può sfondare queste cose qui No ma in effetti Cosa cazzo stiamo facendo qua Io non vorrei Stiamo a round 3 Ma io ho un'idea dove cazzo è finito il coso Eh sarà Qualcuno gli avrà sparato Eh Lasciamo Jambo No 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 Allora ma il paralizzatore gli fa qualcosa Quei gigante No il paralizzatore non è il pannello Boh allora non so Sento le voci di moia Di un mostro Di un mostro Mio dio Jambo è come se non avessi mai giocato questa mappa Lo ripeto L'ultima volta frugavo fra cadaveri Si vede non è uscita tanto fa È uscita luglio su xbox È uscita agosto su pc No neanche Oddio quando è uscita su pc Si agosto Si si era inizio agosto Era inizio agosto Putsavamo di sudore Eh ma era Era un bel periodo Era un bel periodo E poi io avevo appena finito Il mio ritiro nerd Anzi neanche Su xbox Ho passato tutta l'estate a giocare in xbox Praticamente Mamma mia veramente E lì non carichava più video Come no Giocavo xbox apposta per caricare video Eeeh Dico così Vi abbandonate ragazzi per xbox Ora che l'hai detto Ora che l'hai detto ci saranno dei fan che hanno Come si chiama Domicix Ecco ragazzi Diciamolo subito Io non uso più di xbox Quindi non ha senso Ecco Se vi aggiungessi Non avrebbe senso Perché io non uso più di xbox Vi prego Trovate qualcosa Eh troviamo qualcosa Trovate l'alcol Ma che ci vuole Eh troviamo gigante Eh che ci vuole Eh che ci vuole Sarà nella cella no Stolto Eh ma ci vuole la chiave Eh ci vuole la chiave Però io so anche dove sono le chiavi Cioè almeno Lo sapevo una volta E' morto No tu sei invincibile Comunque doveva arrivare a 400 uccisioni Senza mai andare a terra Ok le chiavi non sono qua Andiamo a tro Fra le chiavi Molto bene Anche questa se ti interessa Eh cosa aspetti a piazzarla In caso di backup Ok Piazzala bravo No L'ho ritannato di nuovo Ma dai torna Torna indietro per favore Fra perché Tanto Ho sparato Tanto gli ha sparato Ora che troviamo le chiavi Ah no sono qua le chiavi Non tornare indietro Non tornare indietro Potevi tornare indietro Con la bomba a grappolo Sì ma ho trovato le chiavi Che cazzo torna indietro a fare Non stiamo Non stiamo Cazzo gli ho sparato Con la Coglione Coglione cosa cazzo esci Cosa cazzo esci Mentre uso la Raygad Oddio Mona Ok i round si stanno facendo Veramente i cattivi Ci pensa Zio Jumbo Ok dovete Dovete trovare di nuovo La chiave del gigante Non è qua Eh gli ho risparato io Con la Raygad Sto convinto Convinto Esce fuori Così a caso Appena gli apro il cancello Aspetta un attimo A me non me Frega un cazzo Ho buttato il telefono Perché mi stavano Ammazzando Ce l'ho lanciato Si è sentito Eh sono tra di noi Bene Mamma mia L'hambro come L'hambro come Qual è la vostra arma Ecco sondaggio Qual è la vostra arma preferita Qua sotto Sotto a questo video Ci saranno 500 sondaggi Eh la gente è libera Di scegliere Quindi dovete No dovete rispondere Rispondo al sondaggio Numero A capo Rispondete E poi E poi trova le chiavi E poi E poi Date la risposta Sondaggio Non ci sono le chiavi Non ci sono le chiavi Eh questo lo prendo io Perché devo trovare sempre le chiavi Le hai trovate? No 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 Sono andato alla banca Non c'erano eh Ah io mi ricordo che si saliva Tipo da una parte Cosa? C'era Crasno 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 Traster 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 I maldropped E l'ho trovata L'hai trovata? Bravo Comunque io non so Il tuo mal di gola Ti 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 ha passato Ti ho passato Potremmo parlare a passato Ottio Eccitante Interessante Eh Non sparategli stavolta Per favore Stolti Rimetti una nuova bomba a tempo Stolto Bravo Vedi che tu mi leggi nel pensiero Fra Ci sono anche i saldi Io ho da prendermi Una terza bibita Allora No beh Prima di prendere terze bibite Apriamo col gigante Cazzo Siamo a 15 Siamo ancora inizio mappa E non abbiamo aperto un cazzo Voglio andare dal pagapancia A farmi due punti Ok Questa non è una bella arma Però Rifacciamo cassa Ok Il gigante viene da te Caro Caro Giambu Occhio a quello che fai No Gli hai sparato Ma mi sta seguendo No Gli ho sparato di brutto O moriva io O moriva lui Non riesce a farlo Allora Fra Ho i dolci Ho i potuti Si i dolci Si i dolci Da mangiare Farà qualcosa con i dolci Ok basta Basta che vieni qua La cella con i dolci Giambu Vieni qua la cella con i dolci Subito adesso Adesso Devi venire su Sì ecco bene Adesso fai in modo che lui ti ami Dai idiota guardami Eccomi mi ama Mi ama Ti ama bene Li portano fuori Ok No no spero per te Forza 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 Scrive Debe Scrive Debe Eh cosa vuole Debe Zombie Eh su whatsapp Ha scritto Debe Cosa ha scritto Debe Allora Visto che siamo in live Ecco Leggililo Leggo minacce Ti dico solo Non riesco a leggere bene Devo prendere il mio telefono No è ok Non ci sono messaggi su whatsapp Vabbè Si No vabbè Vai O forse sono vecchi Alle 21 No adesso Allora Nonna di dio Zombie Ti faccio vedere Ti dico solo che sarà edito L'ho già scritto L'ha già scritto L'ha già scritto L'ha scritto Ah ok Me fai proprio schifo Scritto Qualcuno può dare dell'alcol Cosa che fa Una scena di giratura di oxford Chi è Chi è Chi è che ha l'alcol Fra